Questa famosa frase di un altrettanto famoso film dà l'idea del momento in cui si trova l'Europa. Tutte le grandi civiltà hanno seguito lo stesso percorso, dalla compiacenza all'apatia, dall'apatia indietro alla schiavitù. Ossia nel momento dell'apatia che scivolerà inesorabilmente nella schiavitù all'impero delle menti. Mentre Theresa May va a Philadelphia a dire che insieme agli Stati Uniti continueranno ad essere la guida nel mondo, mentre presenta i suoi 12 punti di uscita dall'Unione Europea. Con dietro lo slogan è Global Britain, ossia la Gran Bretagna mondiale. Chi va sul sito dedicato dalla Commissione Europea alle consultazioni pubbliche non trova affatto la reazione di quella che potrebbe essere, come dire, un partner sedotto e abbandonato. Un partner che ha messo al primo posto come lingua di comunicazione proprio la lingua della Gran Bretagna che ora esce anch'essa dall'ambito delle lingue comunitarie, bensì esattamente l'opposto. Elettroencefalogramma piatto. Sulle 30 consultazioni del popolo europeo da parte della Commissione non ce n'è una, e dico una, che non abbia necessità da parte del cittadino europeo per poter dire la sua e quindi essere consultato dalla Commissione Europea che non preveda in un modo o nell'altro la lingua inglese. Una competenza in lingua inglese davvero molto, molto approfondita in quanto i temi trattati e la documentazione allegata certamente non sono alla portata di un mero inglese scolastico. Piena, biega, insopportabile discriminazione linguistica dei confronti di tutti i popoli dell'Europa che non sono madrelingua inglese. Un fascismo linguistico ormai davvero insopportabile, senza ragione, di un'Europa invertebrata fatta di governi altrettanto invertebrati. Se immaginate che il vostro parere, la vostra consultazione dovrà essere presa in carico anche dalla Commissione Europea per poi fare, redigere le proprie direttive, vi rendete conto di quanto denaro voi siate espropriate nel momento in cui il vostro parere non c'è, ma c'è solo quello relativo agli interessi dei madrilingui inglese e di chi ha alte competenze anglofone e quindi già uno schiavo della mente. Ma non c'è niente di meglio che conoscerle queste 30 consultazioni alle quali voi potreste e dovreste, come cittadini europei, dare il vostro parere e che sono quelle a tutt'oggi attive sul sito della Commissione Europea. Partiamo dalla prima, la valutazione della cooperazione tra il Parlamento Europeo e la Commissione Europea nell'ambito della comunicazione degli Stati membri. Questa è valida fino all'8 maggio del 2017, la lingua ovviamente è l'inglese. La seconda, la politica di vicinato, le relazioni esterne, gli affari economici e finanziari. Si tratta di dare una valutazione tematica su sostegno alla governance economica nei paesi dell'allargamento e del vicinato, questa valida fino al 28 aprile del 2017, in lingua inglese. Sulla ricerca e la tecnologia, una consultazione pubblica delle parti interessate alla valutazione del partenariato pubblico-pubblico, iniziativa dall'articolo 185 nel contesto della valutazione intermedia di Orizzonte 2020, valida fino al 30 aprile 2017, in lingua inglese. Tema sanità pubblica, ambiente, agricoltura e sviluppo rurale, consultazione pubblica, il resto a Translipen, a mezzanotte e mezza dopo la lettura dei quotidiani di domani.